La battaglia tra la giustizia statunitense e il presidente Trump sul bando all'immigrazione si gioca nel nono distretto della Corte d'Appello di San Francisco. La decisione è attesa in settimana. L'obiettivo del governo è ribaltare l'alta all'ordine esecutivo del giudice di Seattle. In caso di conferma, la Casa Bianca si rivolgerà alla Corte Suprema. Durante l'udienza telefonica durata un'ora, uno dei giudici ha definito gli argomenti dell'avvocato del governo piuttosto astratti. Per il presidente, il bando all'immigrazione dai sette paesi musulmani è una questione di sicurezza e il giudice federale, sospendendolo, ha oltrepassato la sua giurisdizione. Il presidente rispetta il potere giudiziario e la sua decisione, ma penso che non ci sia altra possibile interpretazione, oltre a quella che il presidente ha il potere di fare ciò che ritiene necessario per la sicurezza del paese. Il caso rappresenta il primo vero test per Trump, visto che attualmente la Corte Suprema degli Stati Uniti è divisa a metà con quattro giudici liberali e quattro conservatori, il nono, Neil Gorsuch, appena nominato dal presidente, in attesa di conferma dal Senato.